Ciao a tutti, ecco come due minuti e mezzo vi mostrerò la semplice e facile applicazione di questi prodotti del suo device per un ringiovanimento della vostra pelle. Questo è il mio viso prima del trattamento. Come potete vedere, rughe e passaggi da fare. Inumidite bene il viso. Dopo averlo ben inumidito, prendete il siero, che è un siero intensivo liftante a base di acido ialluronico e ne mettete nelle parti interessate una piccola dose. Dopodiché prendete il vostro device e lo portiamo sulla funzione caldo, ci sono vari programmi con la sua vibrazione e cominciamo il massaggio. Movimenti circolari, soprattutto nelle zone interessate e andiamo avanti. Continuiamo il nostro massaggio, che è il nostro turbo device, con la sua applicazione produce 8800 vibrazioni al minuto. Adesso applicherò un contorno occhi, dopo aver trattato il mio viso col device, un contorno occhi al fico d'India, che è un distensivo rilassante. Lo metterò nelle zone da trattare, dopodiché, vedete questo che è il fico d'India, il contorno occhi, riprendo il mio device, sempre sul caldo. Ok, con la sua vibrazione e riprendo il trattamento esattamente come ho fatto prima, sempre con movimenti circolatori, dall'interno verso l'esterno, movimenti circolatori. Adesso passiamo al terzo passaggio, che è quello di applicare la nostra crema liftante al veleno di api. Mettiamo un po' di crema, giusto nelle parti da noi trattate, proprio anche nel nostro contorno occhi. E passiamo all'azione a freddo del nostro device, sempre chiaramente con la funzione della vibrazione. E anche qui andiamo a massaggiare, però col freddo, che permette di rassodare, levigare la nostra pelle per il fine del nostro trattamento. Sempre movimenti circolari. E la facciamo penetrare.